In febriare si è venuto a cercare e esce anche a commissare nella sala d'imprensa con una persona che ci sarà per il motivo che si è venuto a scoprire una contrapanna di oro e si è venuto a conoscere se c'è alcuna domanda in una propria minestra e mi sono sempre chiesto se non si è venuto a concludere e non si è venuto a concludere e si è venuto a prendere una clarificazione in questo caso non si è venuto a contestare e più o meno due giorni dopo, mi sono venuto a mandare una carta per il rappel e si è venuto a prendere un punto per la contestare ma non si è venuto a contestare e ciò che si è venuto a conoscere è il fine di settimana, l'ultimo traccio l'uomo che è la persona che mi ha messo nella carta è venuto a detenire, per me è un caso allora, questo è quello che mi ha specially sentato a domanda ora, allora, quello che mi ha messo a domanda ha iniziato a domanda che è venuto a domanda e mi hanno detto che ti resta a domanda ma che sono comporti con un po' di ris� ma che mi ha messo a domanda ma come prendere che un buon giorno ma anche dal momento di aver chiesto e lui abbiamo pensato di questa domanda non mi ha messo di questa domanda ma non ti ci sono assinuati ma non ci sono disinuati a contestare il sacco e portare per chiarificare che si è fuori da mezza o che si è finita però ora quando ti accontestai, quando la guerra abri e volvi a te pregunto che era sin contestare o che era in detenzione di una persona mi dice no, allora la gente volta e dice hey, por favor manda un contesto arrivi il sacco, guarda lo che sta passando e assina, clarificare per il pueblo, per il governo, per il paese e tu rischi di luce di quello che sta passando all'ultimo tempo non si guarda la fronte a cui venezuelano sarà e la forma che vado a portare un po' strano mentre noi fraccioni e altre fraccioni anche strano che il ministro hollandese staff bloc di Biabe e Venezuela senza invitare a andare con nessun miembro del governo di Aruba per essere qui e ora non ci vedo, ma non ci vedo, ma non ci vedo ma non ci vedo, ma non ci vedo, ma non ci vedo ma non ci vedo, ma non ci vedo, ma non ci vedo ma non ci vedo, ma non ci vedo, ma non ci vedo, ma non ci vedo non ci vedo questa cosa cosa comunque mi devia usare, ma non è difficile lo citare, come ho tempo spiegge il lo processo che ti ha detto e come il valore, non ci vedo non ci vedo, ma non ci vedo ma non ci vedo, ma non ci vedo ma non ci vedo, ma non ci vedo questo ma non capite